Presentazione nella chiesa di San Giovanni nel centro storico di Castrolibero della seconda edizione dell'iniziativa La Notte Crociata, a promuoverla il centro studi Castelfranco Crociata con il sostegno dell'amministrazione comunale di Castrolibero. Questa manifestazione si svolge in tre momenti distinti, c'è un momento per così dire ufficiale dove sono invitati gli ordini cavallereschi riconosciuti dal Vaticano con una celebrazione religiosa nella parrocchia del Santissimo Salvatore, con una celebrazione ufficiata dal parroco Don Franco Zumpano, alla quale seguirà una processione con la croce che porterà nell'antica chiesa di Santa Maria della Stella dove si terrà un convegno appunto sulla croce sul ruolo dei cavalieri oggi. Quest'anno a questa manifestazione parteciperanno anche cavalieri provenienti dagli Stati Uniti, dalla Francia, quindi si sta dando un tocco internazionale e quello a noi piace molto perché il nostro scopo principale è accendere un riflettore sul nostro territorio, sottolineandone le eccellenze e le potenzialità. A questo momento di religioso e di studio seguirà invece la rievocazione della nostra storia in maniera puntuale. Alla presenza dell'ultimo rete del San Severino che noi premieremo proprio nel momento del convegno, ci sarà per tutto, l'intero centro storico sarà addobbato con vessilli in Irlanda e con delle strutture sceniche dove faranno la loro comparsa cavalieri crociati di un tempo, dove ci saranno figuranti nobili e popolani che proporranno degustazioni ai visitatori sia di carattere medievale ma anche della cultura gastronomica dei nostri giorni e ci saranno degli spettacoli a tema, ci saranno degli sbandieratori del Palio del Principe di Bisignano, ci saranno musici poeti che declameranno poesie alle dame e ci sarà un mercato di artigianato medievale sul quale anche per il futuro puntiamo molto perché potrebbe essere un volano anche di sviluppo per le attività produttive e in più ci saranno delle chicche come la ricostruzione degli accampamenti saraceni con delle esibizioni di danza del ventre e questo che potrebbe sembrare una curiosità, diciamo ha una motivazione storica pregnante in quanto Castrolibero, l'antica Castelfranco, Castrofranco come diciamo noi, trae il suo nome proprio dall'accampamento dei Franchi che si opponevano alle incursioni saraceni in Val di Crati proveniente da Amantea. Una rievocazione storica che si svolgerà domenica 22 settembre che punta a mantenere vivo e saldo il legame tra presente e passato conservando la memoria storica Castroliberese. Questa è la nostra idea, puntare sulla conoscenza del proprio passato e nonché puntare sulle scuole, infatti saranno investite e parteciperanno anche le scuole, in queste due giorni ci saranno dei novelli ciceroni per ragazzi e studenti del locale liceo scientifico che illustreranno ai visitatori, a quanti cenereranno della loro presenza la storia dei monumenti e nonché la storia del nostro territorio.